A lavoro il Comitato Cremonese, Casalasco e Cremasco in appoggio al Sì per il referendum sulle trivelle che chiama al voto gli italiani il 17 aprile. Tante le anime che lo compongono, tra forze politiche e associazioni ambientaliste, una sessantina in tutto, il cui intento è quello di informare in modo trasparente e responsabile la cittadinanza di fronte a mosse poco chiare e interessi economico-politici che stanno inquinando la partita. Sabato incontro pubblico sui motivi del Sì. Purtroppo l'informazione che ne stanno dando i media è scarsa e a volte non corretta, per cui il primo punto fondamentale è quello di dare una corretta informazione alla cittadinanza. Per Sinistra Collegia Libertà, oltre al discorso ambientale che è prioritario, c'è anche un'altra priorità, la priorità della prospettiva di uno sviluppo sostenibile, quindi di un passaggio graduale che dovremo affrontare come nazione, ma anche a livello mondiale, dai combustibili fossili alle fonti di energia alternativa. E questo è sicuramente il tema più importante su cui poter convincere le persone, visto che peraltro il 2020 è alle porte e entro il 2020 dovranno essere ridotte del 20% la dipendenza dalle fonti fossili, incrementate del 20% le fonti rinnovabili e diminuite le emissioni di CO2 nell'atmosfera del 20% e quindi se non vogliamo pagare sanzioni dobbiamo avviare questo percorso. Ci sono mille altri motivi, sostanzialmente il referendum vuole abrogare una norma che è stata introdotta con lo sblocco Italia, che ha modificato il precedente regime concessorio sulle estrazioni petrolifere e di gas e quindi ha esaturato lo Stato e le regioni dalla possibilità di poter cedere o meno le proroghe per le estrazioni. Riteniamo sia fondamentalmente sbagliato perché comunque le regioni devono poter dire e esprimere la propria volontà anche su questo tipo di attività che riguarda proprio i loro territori. Io ricordo due cose, che noi come paese abbiamo firmato a dicembre a Parigi un accordo che riduce la temperatura di un grado e mezzo, siamo una delle 187 nazioni che ha fatto questa scelta e quindi io credo che l'Italia deve avere dei comportamenti conseguenti rispetto a questa scelta. È l'indicazione che deve guidare tutta la questione dell'energia in Italia e in 187 paesi del mondo. Prossimo appuntamento è per il 12 aprile quando alle ore 21 si terrà presso le ACLI a Cremona, un incontro di approfondimento con il teologo Don Bruno Bignami e con Ezio Corradi, vicepresidente del coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardi.